La vertenza continua a essere aperta, vorremmo che lo fosse per tutti e lo diciamo anche da queste piazze, noi vogliamo ritessere i figli unitari e quindi proponiamo a Cisle e Will di definire insieme delle regole comuni nel rapporto con i lavoratori siccome si facciano le vertenze perché sappiamo bene che quando si è divisi si è più deboli, sappiamo bene che la divisione spesso non è compresa neanche dai lavoratori e delle lavoratrici ma senza delle regole, senza un governo delle piattaforme, quando si arriva sempre a delle valutazioni diverse si è altrettanto deboli perché non si ha la forza di chiedere innanzitutto il rispetto degli accordi.